Per risalire sopra Quindi per risalire sopra Per forza di qua Vai Ma porca puttana Un colpo per lui sarà finita Vai uccidilo Oh Questa è un'altra Vabbè questo era quello che sta lì No a me interessa Ah aspetta un po' Che c'è di qua Nooo Mi serve uno steam per te Ma perché Ma Ma lo ammazzi Per favore Ti spiace aiutarmi Porca troia Allora Oh 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 Qui c'è sta un ego Quindi Allora questo Oh Vedi Perfetto Eh no Questo pure se rompe C'è l'acqua Se rompe Sì capisco che c'è un ego Questa veniva accesa Per onorare e venerare Il saggio sepolto qui Io capisco tutto Però Ah no no Aspetta Aspetta Ho capito Lascia Ok È andato È andato È andato È andato Però Mi sa che Mi serve un altro Ok Mo' vieni tu Ok 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 Eh È sparito con l'altro L'eco Della forza Ucciso per aver rubato Un'offerta destinata al saggio Famo Questi Qua Fanculosa Tanto semplice Vai Così non tocca per terra Vieni qua E rompi questo No Che fuck Tu E rompi questo Mi sopra Ero 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 Saluta la sfera Ecco la sfera che è scesa Ora spegniamo la sfera qua Vai Alleluia Ok Guarda di tutto un ascensore Sto cosa E' un ascensore Eccola qui Finalmente ho trovato una rappresentazione intatta Del sacro manufatto degli Zeff Amico mio vieni a vedere Questo è Mictrul Alla cripta di Bogano Vedi quell'oggetto che hai in mano? A quanto pare si tratta di un oggetto Che permette a un utilizzatore della forza Di percepire i misteri della cripta Questa è la chiave E la guida L'Astrium Zeffo Ma chi ha distrutto le sue raffigurazioni E perché? Bisogna indagare più a fondo E tuttavia Il prossimo passo è chiaro Trovare un Astrium Se ne esiste ancora qualcuno Che cos'è questo Astrium? Un Astrium 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 Mai sentito? No Neppure io Verò una chiave Sì ho capito Pare che sappiamo cosa dobbiamo trovare Sì lo sappiamo ma Quindi Dove ci ha portato? Ok Mamma mia Che Parto E qui Vabbè A parte riposiamo Riposiamo E poi andiamo a vedere I due punti di abilità I due punti di abilità Li prendiamo Io andrei sempre sulla forza Perché è la cosa che uso di più Spinta potente Mi scalamentare in area Gruppi di nemici Di abbattere i versali Più grandi Di grandi dimensioni Perché a me Della forza della spada Attacco lo sdlancio Non lo uso Attacco aereo Tanto meno Attacco un pendente Dopo un pendente alto Tanto meno ancora È o questo Che ci andiamo A salute massima di KAL Quasi qua Quello sotto Cos'è? Di come più Salute quando si usa Sì Sì Niente Questo Per forza Lo steam Dura Maggiore Efficacia Perfetto Ok Adesso Adesso E' qui a destra Qua Ok Non c'è niente No E' qua Mamma mia Fata Oh la Grazie Spero che la nuova Crittografia La tenga fuori Ok Cos'è stato Per te Cosa è stato E che fai? Cosa si prova a manomettere un altro droide Già Deve essere davvero strano per te Per una buona causa No? Piripi 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 Poco tra le droide Sonda Danneggiati Ovviamente Meglio contattare la mantis Trilla di sicuro sa dove si trovano Sicuro di averlo riparato Non rispondono Non mi piace Torniamo indietro Non c'è nessuno Che sia una trappola Eh Aspetta Ti direbbe che non riusciamo a tenercene lontani Aspetta Hai sentito? No non ho sentito niente Qua andiamo giù Eeeh Parca puttana Guarda la roba che dobbiamo andare a cercare Bersaglio trovato Tutto chiaro Rintraccio il nemico Io qua Non c'era andato Perché non c'era il potere Vai 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 Ma solo per questa Ah 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 C'era qualcosa laggiù Materiale Vabbè Quello Ahah Come on morì Io sono pronto Ma ancora Smettila di dartela a gambe Sì Affrontami Sì Resisti Ah Era un altro nemico Però Non c'era più quello Col Devi aiutarmi Così va molto meglio Ma questo è chiuso Però Per aprirlo Sicuramente c'è qua No aspetta Controlliamo Sì è nuovo È nuovo È nuovo dai Qua c'è dovrebbe stare Ah Yes Olè Qui un ufficiale imperiale Ha nascosto una reliquia Voleva usarla Per ottenere Il favore Dell'imperatore Ma il suo inganno L'ha rese imprudente Apri Qua Menu Se menu mappa Ok sì A destra Ci approvamo Sì Questo è un punto segreto Di a questo punto Qua Oh mio dio Aspetta Qua Nam Uno steam Uno steam Grande Quindi abbiamo 5 Non gli insegna 4 Perché uno l'ho consumato Però so 5 Me l'ha caricati E questo Un boss Bene Levalo Levalo Cazzo 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 Quindi Che succede Mi ha prigionato BD Dove siamo Che cazzo è successo BD1 No Piccolo amico Dove sei BD BD Devo andarmene da qui E quindi Dovunque mi trovi E quindi Cazzo E' un cavo elettrico E' un cavo elettrico Cazzo No 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 Ah Ah Aspetta Ecco Qua No Me Cazzo Abri Funciona Mmm L'aria è fredda Viziata Sono a grande profondità Allora No Questo è blu Questo Non c'entra niente Non ci arriva Non ci arriva Allora Questo qua Questo qua Questo qua E' rosso Adesso posso andare Giusto? Col cazzo Vai Olè 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 Aspetta eh Olè Olè Ehi Anche io sono felice di rivederti Adesso ti levo Adesso ti levo il bullone di costrizione Maledetti Emo Poveri troidi Andiamo prima di fare la stessa fine Sì ma la spada Sì Io vado pure dalla prigione ma Ma spada Vai Eccellente Poi Per te è uno scherzo no? Ok Ok Va la spada Ma vedi Trova la spada Vedi che Non c'è Non c'è Vai Cosa hai aperto? Cosa hai aperto? Ok questo ha fatto Quindi ora devo ricollegare un'altra volta questi No No Eh sì Aspetta Questo Va qua Ok Si sale Sentito? Pare che ci sia qualcuno in casa Siamo in realtà la spada E Conosco questa bella Medita Vai E tu chi saresti? Non lo sai? Sono Sork Torma Piacere Comando io da queste parti Deve ringraziare Deve ringraziare Cresi Quanto braccia Se oggi ci incontriamo Lo farò Non appena usciremo da qui Stasera Abbiamo un ospidante speciale Un guerriero Di un'epoca passata Un Jedi Vediamo cosa Dove sta? OLE Qualcuno gli dia i suoi giocatori Oh Dove sta? OLE I Grandi sacrifici Che hanno compiuto Per renderci tutti Reci Dammi qua Ok Dai bro Oh Cazzo Forse dovresti scendere e affrontarmi di persona Ho troppi crediti da contare Sono d'accordo, parla troppo Chi c'è? Ma quanti cazzo sono? Attenzione Oh Diamogli un po' di vera azione Sì vabbè cao Dai Quello era niente Aspetta Questo sì È un vero combattimento Facciamola finita Mandatemi contro qualcosa di tremendo Oh Peggio della stagione degli amori sugli Albeck Prime Caciua Oh 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 No 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 Dammi una mano Oh 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 Come fatta PM dai Stava lontano mamma mia ho finito i cosi no 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 Dai, manca un colpo Oddio No, basta Adesso viene il bello Ma basta Dovresti conoscere i prossimi ispitanti Hai venito dal merito di action Non c'ho più vita E mo? Rivelao l'ultimo Non me vaffa tutti Non fuggire Niente di che Eh? No Perché non mi ha fatto? Oh, bene Eh, è tutto qui Bibi, uno spin, qui Oh, sei nei guai Mi ha fatto la piazza del culo Se rido Mo? Che vuoi fare? Posso andare via? Che fai? Cosa puoi me prende? Non avete scappo Vencerò il capo della galassia Cosa puoi me prende? Grande Via, ciao Che figata sto pezzo Chissà aspettavo Non è che era una cosa in più rispetto alla storia normale Che noi dobbiamo parlare Eh sì Ah Mo? Che cosa ti ha detto? Mi ha detto Mi ha detto che l'hai tradita con l'impero Mmh È vero? Direbbe qualsiasi cosa per sabotare la missione È vero? Trilla era la mia apprendista L'abbiamo capito Prima delle purazioni Avresti dovuto dirmelo È in arrivo un messaggio criptato da Kashyyyk Mari Cal Abbiamo trovato Tarful e vuole incontrarti Ma non è tutto L'impero ha invaso la nostra posizione alla raffineria So ha lasciato il pianeta Oddio santo Alcuni di noi si sono uniti ai guerrieri Wookie nelle foreste Fa attenzione Anche tu Dobbiamo parlare sempre A dopo Sappiamo cosa fare Mi raccomando Allora siamo pronti E questa volta andrà tutto bene Mmh Sì Ehi ragazzo Su Svegliati Devo parlarti Cosa? Devo parlarti Non so cos'è successo tra te e lei Immagino si tratti di una questione fra Jedi Ma Non penso che sia il momento giusto per questo Non sono affari tuoi Io penso di sì invece Noi siamo una squadra Non è vero? Giusto Senti Cal A causa di un mio errore Hai rischiato di essere ucciso Mi dispiace Ragazzo tutti commettiamo degli errori Magari non tu Non era più piccolo lui Perché non le dai un po' di tregua? Non ti dico di farlo per me Per me anche se voi due siete la cosa migliore che mi è capitata nella vita Prima del vostro arrivo Mi interessava solo avere una buona mano a Sabak Adoro quel gioco Lo so bene Cal La vita non è un gioco Prima del vostro arrivo io pensavo solo a me stesso E al denaro Mi è associata la cosa Ora è tutto diverso Mi sta piacendo sempre di più Io a questo punto Devo andare su Kashyyyk Però devo andare un attimo a registrare Sono una gioia per gli occhi Mi manca qualcos'altro Mi mancano un sacco di cose Allora Dovente qua Perché dovente in pausa A registrazione ma Voi non vedrete questi stacchi E me fai Me fai salvà? Grazie Gentilissimo Minosa Mi mi ha deciso di ricomparsi Ce ne prego niente E esci Perfetto Ok E posso continuare Grazie 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 Grazie